Un Alexio Magistralis di uno dei più importanti protagonisti della cultura italiana, Corrado Augias al Teatro Tenda in occasione del compleanno della libreria Feltrinelli di Arezzo, aperta nel novembre 2011. Augias ha presentato in città il suo ultimo libro, La vita si impara. Si impara lentamente, perché sono tante le cose da imparare, non parlo della scuola, anche della scuola, ma bisogna imparare i rapporti con gli altri, con gli altri bambini, poi con gli altri adolescenti, poi i primi rapporti amorosi così difficili da gestire, i rapporti con i genitori quando arrivano quegli anni complicati in cui si vorrebbe uscire di casa, eccetera, e poi i rapporti professionali che Dio sa quanto sono complicati, eccetera, eccetera. E poi c'è da imparare anche la propria condizione di cittadini, cioè come mi colloco io nella società. Sto a casa mia, faccio le mie cose con onestà e non mi curo del resto, oppure cerco di capire dove va il mio comune, il mio paese, l'Europa, il mondo, e dico esagerando, capito? Allora tutta questa somma di nozioni e di rapporti che bisogna imparare a maneggiare sono di una complessità molto grande, che richiede tempo, attenzione, però se riesce aiuta a vivere meglio. Corrado Augias ha poi affrontato diversi temi legati all'attualità politica nazionale ed internazionale, parlando anche di populismo. Ancora una volta noi italiani abbiamo aperto la strada, perché io me lo ricordo che cosa fu lo shock quando giocando sui temi apertamente populistici Berlusconi nel 94 vinse le iniezioni. Con Berlusconi cambiò tutto. Era il 94, ripeto. Sono passati quanti? 30 anni? E adesso il populismo è diventato, si è impadronito dalla più grande democrazia del mondo. Non so che dire, cioè io so, io credo di sapere da che cosa dipende. Dipende dal fatto che i nostri anni sono dominati dalla paura.